Una festa per tutti i bambini insieme alle marionette dei pupi di Stac. Questo giovedì in Piazza d'Azzelio, anche quest'anno la Fondazione Ginevra Olivetti Rason, nel ricordare Ginevra stroncata a soli 27 anni da un arresto cardiaco sette anni fa, rinnova la festa del 21 giugno dalle 17.30 nella piazza che ha contribuito a riqualificare con varie iniziative negli scorsi anni. L'animazione è affidata all'Associazione Culturale La Lepre Pazza, mentre lo spettacolo scelto è Giovannin senza paura, una novella della tradizione fiorentina contaminata con altri racconti famosi e poi popcorn, gelato e zucchero filato offerti a tutte le famiglie che interverranno. Sono sempre molto grata alla famiglia Olivetti Rason che ha trasformato questo dolore, un dolore poi che non si sana ma che può diventare qualcosa di bello per tanti bambini e per tante famiglie che frequentano la piazza. Quella è ormai la piazza di Ginevra, è una piazza dove si fa festa, ogni anno qualcosa di più, qualcosa di più bello, quest'anno anche i pupi di stacca è un bello spettacolo per i bambini e le bambine e quindi che la memoria di Ginevra sia l'occasione per vivere quella piazza pienamente e questo è uno dei modi più belli che io incontro ogni anno di non lasciare al male, al dolore l'ultima parola. Non si può eliminarlo ma si può appunto non dargliela vinta e mettere una parola bella di vita, di festa anche su una grande perdita e su un dolore come questo.